Qui siamo nell'officina di Freddy, che suona la batteria, è anche suonato tra l'altro, oltre a suonare, però qui siamo in veste di Mastro Orologiaio e io gli ho portato un pendolo. Questi pendoli che si chiamano Jungas, cioè della ditta Jungas di Germania Ovest, io, quando avevo quei vent'anni, io riparavo questi orologi, a me non per riparare un orologio così, che impiegavo tre giorni, prendevo 1.500 lire, capito, quindi non prendevo neanche 100 lire all'ora, diciamo così. Io adesso lavoro a gratis per il Ceffo, perché il Ceffo per me è l'unico. Allora, questo pendolo qua, cioè questo è orologio, bisogna smontarlo, pulirlo tutto e metterci dentro tre tipi di olio. Allora, come una macchina, cioè una macchina cosa ha? Il motore, il cambio e il differenziale, quindi sono tre oli diversi. La suoneria, da cosa è composta la suoneria? Guardate, è eccezionale. La suoneria è composta da una spirale in acciaio, acciaio non in ferro. Facciamo vedere. Il quale, quando tu il battente batte sopra, senti, ecco, senti che... Ed è una molla. Una molla. È un acciaio, non è, capito, acciaio temperato in modo tale che... è come con un diapaso, capito? È temperato. Temperato, sì. Quindi lì è sempre primavera, è un clima temperato. Sì. Tu che sei un esperto, posso farti una domanda? Dica. Si può uccidere un orologiaio col pendolo, col pendolo? Sì, sì. Col pendolo esempio. Allora, quest'asta qua, che sarebbe, diciamo, quella che determina se l'orologio va avanti o indietro. In base alla lunghezza, alla lunghezza di questo, io vado a regolarlo tramite questa vite. Vedete? Vedi? Io tramite questa vite faccio il pendolo più lungo, quindi lui cosa fa? Il pendolo più lungo impiega, impiega quale più tempo sia a fare il secondo. Se invece l'accorcio, lui, lui dunque va avanti. Quindi dipende. Dipende. Se è lungo, se è lungo ci mette di più, se è corto ci mette di meno. Ci sono altre cose che funzionano in questa maniera qui. Più è lungo, più ci mette del tempo. Sì, sì. Comunque, vedi, allora, guardatemi dentro com'è fatto. Questo ha già cent'anni, questo. Questo ha oltre cent'anni. E questo qui quante ne ha? Ottanta. Signori, io sono qui con un dei più grandi esperti orologiai. Anzi, diciamo così, se qualcuno ha di questi pendoli da mettere a posto, da Freddy. Da Freddy, da Freddy. Andiamo, adesso vi porto a vedere, far vedere quanti pendoli ha messo a posto Freddy. È la stanza dei pendoli, questo. Ne abbiamo due. Che credevi. Questi sono funzionanti tutti. Questi non sbagliano un secondo. Va bene? Perché non li ho presi che erano... Rotami. No, erano fermi da anni e anni. Allora, come ti ho detto, l'olio, l'olio si aggruma e quindi diventa come... Agrumato. Diventa aggrumato. Allora, salutiamo gli amici. Vi abbiamo dato una bella lezione di pendolo. Sì, di pendolerie. All right. All right. All right.